Bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi mi siedo qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è quello di diffondere consapevolezza, denunciare ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Oggi parliamo di un caso estremamente triste e difficile, quello della famiglia Thoth. È un caso veramente assurdo, molto recente, è capitato a dicembre del 2019. Infatti deve ancora svolgersi il processo e quando si svolgerà sicuramente verranno fuori tantissimi altri aneddoti, quindi magari farò poi un video aggiornamento. Il processo dovrebbe tenersi il 27 settembre, quindi tra pochissimo, ma ho deciso di fare questo video lo stesso perché c'è decisamente abbastanza materiale per un video anche bello lungo. Praticamente tutte le informazioni che ho preso per creare questo video sono state prese da un podcast fatto molto bene da due giornalisti che hanno proprio collaborato sia con i detective sia proprio con alcuni dei personaggi di questa storia. Vi metto il link nei commenti se vi interessa andargli a dare un'occhiata, è molto lungo ed è in inglese ovviamente, però se vi interessa io ve lo lascio. Anche perché troverete davvero tanti dettagli in più che io non riesco a mettere in questo video perché sarà già davvero lungo. Comunque detto ciò, cominciamo. Tony Todd, fin da quando era un ragazzino, è sempre stato altruista. Una parola che tutti quelli che lo hanno conosciuto nel corso della loro vita scelgono di usare per definirlo. Al liceo era il leader di un gruppo di sostegno, diciamo, per gli altri studenti. Chiunque avesse un problema in generale o un problema nello studio o un problema anche personale, sapeva che Tony era la persona a cui rivolgersi. Tony era coinvolto in tantissime attività scolastiche, era il capitano della squadra di calcio della scuola, il rappresentante di classe ed istituto. Era quella persona che va d'accordo con tutti e che riesce in tutto. Sento che ce n'è una in ogni scuola. I suoi compagni aspiravano a diventare come lui e gli insegnanti lo adoravano. E quando Tony incontra Megan all'ultimo anno di liceo, tutti pensavano che quest'uomo avesse davvero tutto dalla vita. Megan era bellissima, intelligente, amava la musica, aveva una bellissima voce, suonava diversi strumenti musicali e anche lei aveva quel carisma che portava le persone a pensare quanto vorrei essere come lei. Era quasi un cliché. Lui popolare, carismatico, lei bellissima, intelligente, erano la coppia perfetta, la coppia più invidiata da tutti. Dopo il liceo sia Tony che Megan vanno all'università ed entrambi si laureano e diventano dei fisioterapisti. E successivamente Megan fa anche un corso per diventare istruttrice di yoga. E dopo aver finito l'università e dopo essere usciti insieme per ben otto anni, Tony e Megan decidono di sposarsi. I due erano una coppia inseparabile. Erano i migliori amici l'una dell'altro, prima che amanti. Insieme si divertivano un sacco, si sostenevano a vicenda e non vedevano l'ora di costruire una famiglia insieme. A settembre del 2006 infatti danno alla luce il loro primo figlio, Alexander. E due anni dopo, a dicembre del 2008, nasce il loro secondo figlio, Tyler. Alexander e Tyler avevano personalità molto diverse. Alexander era un bambino molto tranquillo, riservato, un introverso. Amava leggere, amava la storia, chiedeva sempre ai suoi nonni di raccontargli aneddoti sulla guerra. E amava proprio leggere libri di storia. Mentre invece Tyler era un estroverso. Era il comico della famiglia, amava far ridere la gente, faceva sempre battute e amava la matematica. Ed erano tutti e due bambini molto intelligenti. Tutti e due amavano la musica esattamente come la loro madre, che li aveva fatti crescere, sempre circondati dalla musica. E infatti tutti e due erano un talento. Suonavano il pianoforte molto bene e Alexander stava anche iniziando ad imparare a suonare il violino. Nel giugno del 2015 Tony e Megan danno alla luce anche una bambina, di nome Zoe. Zoe era una sagoma, era la regina della casa, pendevano tutti dalle sue labbra. Nonostante la sua giovanissima età, si capiva già che tipo di persona sarebbe diventata. Era una leader, già da bambina. Anche lei amava la musica, chiaramente era nata e stava crescendo all'interno di una famiglia di musicisti praticamente. E quindi non vedeva l'ora di crescere e di iniziare anche lei a prendere lezioni di pianoforte. E nel frattempo aveva anche voluto che la iscrivessero ad una scuola di danza, perché tra le varie cose amava anche molto ballare. E l'ultimo membro di questa famiglia del mulino bianco era un cagnolino, di nome Breezy, che i bambini adoravano. Megan era una madre fantastica, aveva sempre desiderato avere una famiglia e avere dei figli. Dopo un po' di anni, Tony, Megan, i loro figli e il loro cagnolino Breezy decidono di andare a vivere nel Connecticut, in un posto che si chiama Colchester, che è una cittadina con circa 20.000 abitanti. Era una cittadina molto carina, mi ricorda un po' quelle piccole città che si vedono nei telefilm, che sembrano un po' finte, un po' come la cittadina di una mamma per amica. Era un posto molto tranquillo, perfetto per crescere dei figli. E la comunità era molto affiatata e la famiglia Toth si integra perfettamente. Megan inizia ad insegnare yoga, mentre Tony apre uno studio di fisioterapia. Lo apre insieme alla moglie, ma è prevalentemente lui che ci lavora. Ok, la luce... Perché succedono queste cose? Non è mai successo prima. È inquietante, lo so, lo so. Ok, amici, scusate, credo che qualcuno si connetta col bluetooth alla mia luce barra cassa. Non sapevo fosse una cassa, in realtà. Spero non succeda più. Comunque, finché non sento delle voci o gente che mi parla, direi che va tutto bene, no? Un po' di musica cinese non è niente. Dicevamo, Megan stringe rapporti con le altre mamme, i bambini iniziano ad andare a scuola. Anche se dopo un po' Megan decide di voler fare la mamma a tempo pieno e decide anche di far studiare i suoi bambini a casa. Tony inizia a lavorare appunto come fisioterapista nello studio che aveva aperto, chiamato Family Physical Therapy. Tony, come era stato per tutta la sua vita, diventa molto popolare e molto in fretta in questa cittadina. Era molto bravo nel suo lavoro come fisioterapista, quindi la gente era felice di andare da lui, perché era in grado di aiutare fisicamente le persone. E oltretutto era uno di quei dottori a cui importa davvero dei suoi pazienti. E oltre questo, tutti vedevano quanto amasse la sua famiglia, i suoi figli. Si vantava della sua famiglia costantemente. Parlava sempre di quanto fosse orgoglioso di loro, anche sui social non faceva altro che pubblicare foto dei suoi figli, di sua moglie. E come era stato per tutta la sua vita, la gente lo ammirava. Era una fonte di ispirazione per tante persone e un punto di riferimento nella vita di tutti. Se avevi bisogno di un consiglio, un aiuto, una spalla su cui piangere, sapevi di poter sempre contare su Tony Todd. Nel 2017 questa famiglia perfetta lascia la casa in cui vivevano in Connecticut e decidono di trasferirsi in un'altra città. In una città che era perfetta tanto quanto loro. Lo so che sembra il copione di uno di quei film banali di Natale. E forse questo è proprio il motivo per cui questo caso ha scioccato il mondo intero. Perché oltre alla gravità di quello che succede e che vi racconterò più avanti, la cosa che disturba di più di questa storia è proprio questo elemento di perfezione. Se abbiamo imparato qualcosa da questi video, davvero è che non è tutto oro quello che luccica. Ma in questa storia, questo detto vale ancora di più. La famiglia Todd decide di trasferirsi in una città della Florida che si chiama Celebration. Che in inglese, lo saprete, significa celebrazione, festeggiamento. Io non sapevo dell'esistenza di questo posto e sembra surreale, ma a quanto pare esiste davvero. Questa città praticamente è stata costruita dalla Walt Disney. Perché in origine doveva far parte di un parco Disney. Non ho capito se di un Disneyland, Disney World o di un nuovo progetto della Disney. Ma poi, comunque, non so cosa sia successo, questo parco Disney non si è più costruito. Quindi la Disney ha venduto questa cittadina e ora è una città vera in cui la gente vive. E se siete mai stati a Disneyland, Disney World, non ho mai capito la differenza tra le due cose. Comunque, sapete che all'interno ci sono interi quartieri. Costruiti proprio, ovviamente, ispirandosi alle varie favole Disney. Quindi ci sono questi interi quartieri che sembrano, anzi sono, cioè sembrano delle cittadine vere, ma sono finte. E sono così perfette che lo sai di essere a Disneyland. Ti senti in una fiaba. Ecco, immaginate che la città di Celebration era costruita in questo modo, ma la gente ci viveva davvero. Era stata costruita per assomigliare ad una piccola cittadina degli anni 50, con tutte queste villette a schiera, col porticato bianco, i giardinetti perfetti. A Natale si decorava la città con tutti gli addobbi natalizi e con la neve finta ovunque. E c'erano addirittura dei cannoni che sparavano neve finta dal cielo ad ogni angolo. Perché ovviamente in Florida fa sempre caldo e di sicuro la neve non c'è mai. Ma che cosa sarebbe un Natale perfetto senza la neve? A Celebration era tutto perfetto. In primavera ad ogni angolo c'erano delle casse che trasmettevano canzoncine con i cinguetti degli uccellini, tipo quando cenerentola si sveglia e deve vestirsi. Che ansia! Quindi, come già detto, era tutto perfetto, così perfetto da sembrare finto. E in realtà in un certo senso lo era, come la neve finta e le canzoncine con gli uccellini. E questo lo trovo un po' ironico, passatemi il termine, questo parallelismo con la famiglia Todd, con quello che succederà più avanti. E capirete il perché. Comunque, nonostante la famiglia Todd avesse deciso di trasferirsi in Florida, Tony aveva deciso di continuare a lavorare nel suo studio in Connecticut. Quindi stava in Connecticut durante la settimana e poi prendeva un aereo, solitamente il venerdì mattino, per passare qualche giorno con la sua famiglia in Florida. Per poi riprendere un aereo in Florida, solitamente il martedì, e tornare in Connecticut a lavorare. E voi direte, perché non sono rimasti in Connecticut se lui doveva continuare a lavorare lì? Beh, il motivo di questo trasferimento in Florida, secondo Tony, è avvenuto a causa di un problema di salute di Megan, sua moglie. Megan aveva contratto la malattia di Lyme, che è un'infezione che si può contrarre quando si viene morsi da una zecca. E a detta di Tony, questa zecca l'aveva morsa proprio durante una loro gita a Disneyland. Posto che loro adoravano, ovviamente. La malattia di Lyme comporta sintomi, tra cui stanchezza, cefalee, dolori muscolari e via dicendo. E Megan ne soffriva in modo cronico. Quindi Tony sosteneva che il clima della Florida avrebbe beneficiato allo stato di salute di Megan. E questo è il motivo per cui si sono trasferiti lì. Nel 2019 decidono di comprare una seconda casa, sempre lì a Celebration in Florida. Comprano una villetta, ancora più grande di quella in cui abitavano in quel momento. Questa villetta aveva cinque camere da letto, un giardino con tanto di piscina. Era una casa molto bella. Ma decidono di tenere entrambe le case. Perché così, se qualche parente o qualche vecchio amico dal Connecticut avesse voluto andarli a trovare, sarebbero potuti stare nella loro villetta. Le persone normali hanno la stanza degli ospiti, loro avevano la villetta degli ospiti. Comunque, la famiglia Toth si integra abbastanza bene anche nella comunità di Celebration. Megan e i bambini si trovano molto bene in questa nuova realtà. Tony fa avanti e indietro dal Connecticut, ma la cosa all'inizio non sembra disturbarlo. Però, dopo un po' di tempo, la segretaria dello studio di Tony in Connecticut nota qualcosa di strano in lui. Prima di tutto, Tony aveva iniziato a prendere peso. Era notevolmente ingrassato. Il che ha iniziato a far preoccupare le persone intorno a lui. A cui, però, Tony spiega che stava bene. Era ingrassato perché, col fatto che doveva spesso fare avanti e indietro dalla Florida, semplicemente non riusciva più a seguire un regime alimentare così sano. Spesso si ritrovava a mangiare fast food di fretta all'aeroporto. Ma non era solo il suo peso il problema. Tony era stato uno con cui si poteva parlare sempre di tutto. Uno con cui si poteva sempre ridere. Ma, pian piano, avevano iniziato a notare le persone che Tony si stava incupendo sempre un po' di più. Notano di come non chiacchierasse più con le persone. Anzi, era diventato anche piuttosto burbero. Era palesemente stressato e stanco. E dopo qualche tempo, un bel giorno, degli agenti dell'FBI si presentano in studio da Tony. Per fargli alcune domande. E questo perché, a quanto pare, l'FBI aveva iniziato a controllare Tony. Già da un po', perché aveva notato delle attività sospette. Tradotto, Tony era indebitato fino al collo. E da un po' di tempo aveva iniziato a fare dei truschini loschi per arginare il danno. Aveva iniziato a falsare dei conti di lavoro, sottraendo fondi a varie assicurazioni sanitarie che lavoravano per il suo studio. Praticamente cosa faceva? Fissava degli appuntamenti e dei trattamenti che i pazienti non avevano mai fatto. E li addebitava a tutte queste assicurazioni sanitarie. Ma in realtà si stava intascando lui i soldi. Aveva quindi rubato a queste assicurazioni sanitarie migliaia e migliaia di dollari. Fino ad un punto di non ritorno, perché questa cosa andava avanti ormai da anni. E tutto ciò per potersi permettere la vita che lui e la sua famiglia facevano. Per poter pagare la villa a Celebration, la villa per gli ospiti. La loro villa in cui vivevano, quella con la piscina, costava al mese. Non ho capito se era in affitto e pagavano un affitto, oppure se era un mutuo che pagavano ogni mese. Ma comunque ogni mese dovevano pagare per quella casa più di 5.000 dollari. Quindi il 21 novembre del 2019 l'FBI appunto si presenta in studio da Tony per fargli qualche domanda su queste attività che avevano scoperto. Tony non può negare l'evidenza, anzi si prende tutta la responsabilità della questione. Dicendo all'FBI che né la sua famiglia né nessuno dei suoi dipendenti sapevano nulla della cosa. Aveva fatto tutto da solo. Infatti i suoi dipendenti effettivamente non sapevano nulla di tutto ciò. Non avevano neanche ben capito che l'FBI fosse lì o comunque non avevano capito che fossero lì per Tony. Comunque Tony si mette d'accordo con gli agenti dicendo che si sarebbero rivisti l'8 dicembre con un avvocato presente e Tony avrebbe affrontato qualsiasi conseguenza ci sarebbe stata per lui. Il giorno dopo, come ogni settimana, Tony prende un aereo e va in Florida dalla sua famiglia. Anche perché la settimana dopo sarebbe stato il giorno del ringraziamento. Ma a quanto pare ogni anno la famiglia Toth passava il giorno del ringraziamento in Connecticut con la famiglia di Meghan. Tutti gli anni tranne quell'anno. Che avevano deciso appunto di passarlo in Florida però senza dire niente a nessuno e questo era un po' strano. I genitori di Meghan infatti la settimana prima del giorno del ringraziamento avevano iniziato a telefonarle, a mandarle messaggi per chiederle che intenzioni avessero. Se anche quell'anno avessero intenzione di andare in Connecticut e festeggiarlo con loro. Meghan risponde a questi messaggi dal suo cellulare dicendogli che quell'anno sarebbero rimasti appunto in Florida perché avevano intenzione di fare una gita con i bambini. Stessa cosa succede a dicembre. I genitori di Meghan continuano a contattarla e continuano a ricevere queste risposte via messaggio dal telefono di Meghan con su scritto che tutta la famiglia aveva preso l'influenza e che quindi non sarebbero andati da loro neanche per Natale. E da quel momento in poi le comunicazioni tra Meghan e la sua famiglia vanno sempre più via via, sempre più scemando. Meghan e Tony rispondevano a malapena ai messaggi e non rispondevano mai al telefono. Ad un certo punto Tony dal suo cellulare manda un messaggio alla famiglia di Meghan scrivendogli che lei aveva perso il cellulare quindi non poteva più rispondergli e aggiunge che in ogni caso la famiglia aveva deciso di prendersi un po' di tempo, un po' di giorni per starsene tranquilli e che quindi avrebbero comunque tutti spento il telefono, non avrebbero comunque risposto. La famiglia di Meghan però a questo punto inizia a essere un po' preoccupata. Così come la sorella di Tony che si chiama Chrissy che il 29 dicembre del 2019 decide di telefonare alla polizia in Florida dicendogli di andare a controllare a casa della famiglia Tot che Tony, Meghan e i bambini stessero bene. Gli spiega che era da un po' di tempo che non riusciva a comunicare con loro gli spiega che l'unica persona con cui riusciva a parlare era Tony ma che comunque si stava comportando in un modo un po' strano. La polizia quindi va a casa dei Tot ma non trovando nessuno se ne va, cosa che personalmente trovo assurda perché se io chiamo la polizia e chiedo di andare a controllare che una famiglia stia bene perché ho notato delle stranezze e la polizia non dovrebbe in qualche modo avere una prova che questa famiglia stia bene perché la polizia ha suonato, non ha risposto nessuno, hanno detto vabbè saranno in viaggio ma magari sono all'interno, senza vita magari c'è stata una perdita di monossido di carbonio magari sono in pericolo, non lo so, mi sembra strano però questo è quello che è successo. Chrissy, la sorella di Tony, richiama la polizia il giorno dopo chiedendo per favore di controllare anche la seconda casa dei Tot la casa degli ospiti per controllare che magari non fossero lì di nuovo la polizia va, suona, non risponde nessuno e se ne va da quel momento in poi non mi è chiaro se Chrissy sia riuscita a comunicare con Tony oppure no fatto sta che il 6 gennaio del 2020 Chrissy riceve una telefonata da parte di un vicino di casa dei Tot che le diceva che sulla porta d'ingresso della famiglia Tot c'era appesa una notifica di sfratto Chrissy riceve anche un'altra telefonata quel giorno da parte di un agente dell'FBI che cercava suo fratello Tony, ricordate Tony aveva appuntamento in Connecticut l'8 dicembre con gli agenti dell'FBI appuntamento a cui non si era mai presentato Chrissy allora a quel punto ritelefona alla polizia aggiornandoli sulla situazione gli dice che suo fratello a quanto pare stava attraversando dei gravissimi problemi finanziari perché a quanto pare c'era una notifica di sfratto sulla porta di casa c'era l'FBI che lo cercava e lei non sentiva Megan e i bambini a quel punto da più di un mese cioè qua di campanelli d'allarme ne abbiamo la polizia quindi il 10 gennaio 2021 si reca nuovamente a casa della famiglia Tot ma di nuovo indovinate bussano suonano vedono la notifica di sfratto capiscono che in casa non c'è nessuno se ne vanno e a questo punto sono andati a controllare a casa della famiglia Tot quattro volte tutte quattro le volte per via di segnalazioni da parte dei familiari che erano preoccupati per loro e tutte quattro le volte hanno scelto di andare via quando successivamente è stato chiesto a questi agenti il motivo di questo loro comportamento loro avevano risposto ma siamo arrivati lì era palese che non ci fosse nessuno in casa c'era questa notifica di sfratto che era ormai vecchia abbiamo bussato abbiamo suonato e poi ci hanno detto che era una famiglia che viaggiava molto quindi abbiamo pensato saranno in giro per le vacanze questo è quello che hanno detto gli agenti di polizia comunque sapete quando la polizia si decide finalmente di spendere un po' più del loro tempo nel cercare la famiglia Tot quando il 15 gennaio gli agenti dell'FBI che stavano investigando su Tony ottengono un mandato d'arresto per frode contro di lui quel giorno questi agenti dell'FBI partono dal Connecticut e vanno in Florida e si appostano fuori da casa di Tony e inizialmente stanno lì un po' nascosti un po' in borghese a osservare la situazione e poco dopo vedono proprio Tony uscire dalla porta di casa sua lo vedono sedersi sul porticato stare lì per un po' di minuti e poi dopo un po' alzarsi e tornare dentro casa gli agenti dell'FBI lo osservano per essere sicuri che fosse effettivamente Tony Tot e nel farlo notano una cosa strana notano che Tony era visibilmente scosso e tremava violentemente mentre era rientrato in casa comunque gli agenti a questo punto sono pronti ad intervenire e ad arrestarlo per frode ma prima devono avvisare gli agenti della polizia locale che a loro volta gli informano di tutte le segnalazioni che c'erano state su quella casa comunicano ai colleghi dell'FBI del Connecticut che appunto Tony e la sua famiglia non si facevano vivi con i rispettivi familiari da mesi e che diversi membri della loro famiglia erano preoccupati per loro quindi arrivano sulla scena alcuni agenti della polizia locale quindi a questo punto sono due agenti dell'FBI più credo altri due agenti della polizia locale bussano alla porta dicono a voce alta siamo dell'FBI siamo la polizia abbiamo un mandato d'arresto per Tony Tot eccetera eccetera ma non ricevono nessuna risposta notano che la porta era aperta quindi decidono di entrare e non appena mettono piede in quella casa vengono immediatamente travolti dall'odore che per la polizia è inconfondibile l'odore disgustoso di putrefazione gli agenti entrano in casa e vedono Tony Tot intento a scendere dalla rampa di scale dentro casa sua tenendosi al corrimano come se non riuscisse a stare in piedi e avesse bisogno di un supporto era in uno stato orribile appunto non riusciva a stare in piedi e tremava violentemente riescono a farlo scendere dalle scale lo fanno sedere e a quel punto gli chiedono dove è tua moglie? e dove sono i tuoi figli? al che Tony risponde che sua moglie era di sopra che dormiva invece i bambini non erano in casa e subito dopo chiama Megan chiama sua moglie le urla tesoro scendi giù abbiamo visite ma non riceve nessuna risposta al che la polizia decide di salire di sopra e sicuramente nessuno di loro era preparato alla scena che li aspettava quando aprono la porta della camera da letto l'odore di putrefazione che già era forte nel resto della casa li travolge ancora di più in quella stanza là dentro era fortissimo vedono subito un'enorme macchia di sangue sulle coperte sul letto e vedono uscire da queste coperte i piedi ormai totalmente blu e in fase di decomposizione di Megan di fianco al letto per terra avvolti in delle coperte c'erano anche i corpi di Alexander e Tyler anche loro senza vita e tutti e due stringevano nelle loro mani un rosario con un crocifisso e purtroppo anche la piccola Zoe era lì e purtroppo dato che Zoe era così piccola il suo corpo era stato quello che si era decomposto più velocemente degli altri e infatti gli agenti ci avevano messo un po' di tempo a trovarla erano andati di sotto da Tony e avevano iniziato a urlargli dov'è Zoe? dov'è tua figlia? e lui gli aveva risposto che domande? è nella sua stanza che dorme? ma purtroppo non era così e per ultimo trovano anche sempre nella camera da letto insieme a tutti gli altri membri della famiglia il cagnolino della famiglia Breezy anche lui senza vita erano tutti morti Tony viene immediatamente portato all'ospedale perché era in uno stato confusionale non stava bene quindi avevano paura che avesse assunto qualche farmaco qualche medicinale nel tentativo di togliersi la vita dopo averla sottratta a tutta la famiglia Tony aveva confermato alla polizia di aver ingerito una dose molto elevata di Benadryl che sarebbe un farmaco antistaminico proprio con l'intenzione di togliersi la vita e subito dopo aveva anche confessato di aver ucciso tutta la sua famiglia quel giorno quindi il 12 gennaio del 2020 Tony Todd viene arrestato per l'omicidio di Megan, Alex, Tyler, Zoe e per maltrattamento di animali per aver ucciso Breezy quando interrogano Tony però la sua versione è un po' confusa Tony racconta che lui e sua moglie Megan erano in realtà d'accordo nell'uccidere i loro figli per poi togliersi la vita a vicenda e questo perché il 28 gennaio ci sarebbe stata la fine del mondo e quindi avevano fatto questa specie di patto ma per qualche motivo Tony era sopravvissuto a tutti i farmaci che aveva preso questa versione dei fatti non aveva alcun senso infatti erano riusciti anche a dimostrare che Tony non era sotto l'effetto di niente non aveva ingerito nessun farmaco come diceva quindi non lo so o era sotto stato di shock oppure stava fingendo Tony racconta che Megan si era tolta la vita da sola pugnandosi due volte l'autopsia però dimostra che Megan era stata pugnata due volte sì una volta mentre era ancora viva e la seconda volta era stata colpita che era ormai praticamente morta e questo rende assolutamente scientificamente impossibile il fatto che abbia potuto farlo da sola Tony confessa anche di aver tolto la vita a Alex e Tyler colpendoli anche a loro con un coltello e poi soffocandoli l'autopsia mostrava che Alex era stato colpito quattro volte mentre Tyler solo una e il motivo per cui Alex era stato colpito quattro volte era secondo il medico legale perché aveva cercato di difendersi probabilmente Alex aveva capito che cosa stava succedendo e aveva deciso di attaccare suo padre purtroppo senza riuscirci Tony confessa tutte queste cose ma quando arriva a parlare di Zoe non riusciva a ricordare come l'avesse uccisa non riusciva a ricordare se l'avesse pugnalata oppure no e purtroppo come già detto il suo corpo era talmente tanto putrefatto che è stato impossibile definire la causa della sua morte comunque confessa di aver ucciso anche lei e confessa anche di aver ucciso il cane Breezy soffocandolo anche se anche lì l'autopsia mostrava che Breezy era stato sia pugnalato che soffocato e si pensa che la stessa cosa sia successa anche a Zoe racconta anche di aver messo poi tutti i corpi nella stessa stanza per stare tutti insieme ma che poi quando era arrivato il suo turno quando era arrivato il suo momento di togliersi la vita non aveva avuto il coraggio quindi la versione è un po' cambiata rispetto alla prima racconta che il giorno dopo aver ucciso tutta la sua famiglia era sceso di sotto e aveva guardato una partita di football alla televisione ma non ricordava con esattezza il giorno in cui aveva compiuto questo gesto orribile ma dall'autopsia viene fuori che la famiglia fosse senza vita da più di due settimane questo significa primo che tutti quei messaggi che Meghan aveva mandato alla sua famiglia dicendogli che avevano l'influenza o andavano a fare una gita non erano stati mandati da Meghan ma era stato sempre Tony a mandarli probabilmente perché la famiglia era già morta e ancora peggio amici questo significava che Tony aveva vissuto in casa con i corpi di sua moglie, dei suoi tre figli e del suo cane per due settimane il medico legale trova tracce di Benadryl nel sangue delle vittime e avevano anche trovato diverse confezioni vuote di Benadryl nella spazzatura quindi la teoria delle autorità è che non ci fosse nessun patto tra Tony e Meghan che non ci fosse nessuna fine del mondo le autorità pensano che Tony abbia drogato la sua famiglia dandogli una dose molto elevata di Benadryl che appunto causa sonnolenza, perdita di coscienza anche se data in dosi veramente elevate per poi ucciderli in prigione Tony telefona a sua sorella Chrissy e nel podcast che ho ascoltato che vi lascerò nei commenti c'è gran parte di questa telefonata quello che Tony le dice in questa telefonata è un po' confuso perché tende a contraddirsi abbastanza spesso e non si capisce se stia cercando di rimangiarsi la confessione che aveva già fatto o se stia cercando di mettere le mani avanti per poter poi cambiare versione in tribunale perché di nuovo in tribunale verranno fuori tantissime cose che ancora non si sanno fatto sta che da che Tony aveva effettivamente confessato di aver ucciso tutti i membri della sua famiglia anche se Megan aveva detto che si era uccisa da sola comunque da che aveva diciamo confessato a che lentamente era arrivato a dire che in realtà non si ricordava più niente non ricordava neanche di aver preso l'aereo dal Connecticut alla Florida non ricordava questo patto uccida che aveva detto di aver fatto con sua moglie cosa che secondo me era comunque una bugia non ricordava ovviamente di aver ucciso né lei né i suoi figli non ricordava neanche come fosse arrivato in carcere e cosa ci facesse lì ma più avanti in questa telefonata in realtà racconta e sembra ricordarsi improvvisamente tantissimi dettagli di quella giornata non ricorda l'effettivo delitto ma per uno che ha perso la memoria che non riesce neanche a ricordarsi come si è arrivato in prigione a me sembra che questa persona si ricordi tantissime cose racconta appunto a Chrissy che quel giorno che però non ricorda esattamente che giorno fosse comunque quel giorno lui era uscito di casa per andare nella loro seconda casa a cercare una collanina di sua figlia Zoe e questo dettaglio della collanina è importante non scordatelo racconta che quando era uscito di casa aveva lasciato la porta aperta e quando era tornato aveva trovato tutta la famiglia così senza vita quindi sta insinuando addirittura che sia stato uno sconosciuto qualcuno che è entrato in casa sua e ha fatto questo oppure sta insinuando addirittura che sia stata sua moglie a farlo mentre lui non era in casa ma se fosse stato davvero così perché allora Tony non ha chiamato subito la polizia perché è rimasto a vivere con i corpi senza vita della sua famiglia per due settimane ora il dettaglio della collanina di Zoe come vi ho detto questa telefonata tra Tony e Chrissy è un po' confusionale lui appunto si contraddice tante volte quindi provate a starmi dietro Tony insinua che ad uccidere tutti non sia stato lui ma allo stesso tempo dice a sua sorella che il motivo per cui era uscito di casa per cercare quella collanina era perché, cito parola per parola era l'ultima cosa che ci serviva per ragioni che scoprirai più in là e intende dire per ragioni che verranno fuori al processo e poi dice anche a sua sorella le chiede se per favore può recuperare la sua fede nuziale che sua moglie aveva indosso sua moglie la indossava nel pollice quindi sappiamo che i due bambini sono stati ritrovati sulla scena del crimine che avevano tutti e due in mano un rosario Tony indossava una collanina con un crocifisso sappiamo adesso che la moglie di Tony indossava la fede nuziale di Tony sembrava che tutti i membri della famiglia indossassero qualcosa di valore o con un valore religioso o con un valore affettivo tutti tranne Zoe che avrebbe dovuto indossare questa collanina che Tony era uscito a cercare ma che a quanto pare non aveva trovato questi giornalisti nel podcast formulano questa teoria che io condivido e se fosse stato tutto parte del piano malato che Tony si era creato in testa e se forse Tony voleva fare in modo che tutti indossassero qualcosa di valore nel momento della loro morte così che sarebbero stati tutti insieme nell'aldilà comunque man mano che parlava con sua sorella Chrissy Tony tira fuori degli aneddoti della sua vita con Meghan Tony racconta che le cose tra i due non andavano così bene come sembrava lui era appunto pieno di debiti e anche qui da che all'inizio si era preso la piena responsabilità di questi debiti di queste frodi dicendo che né la sua famiglia né i suoi impiegati sapevano niente lui aveva fatto tutto da solo a che adesso lentamente sta cambiando idea racconta a Chrissy che non solo Meghan era a conoscenza di tutti questi debiti e delle frodi ma addirittura non le importava neanche niente si rifiutava di aiutarlo rinunciando a qualcosa come per esempio la seconda casa e gli impediva di chiedere aiuto a detta di Tony Meghan gli impediva persino di parlarne con i suoi familiari nella telefonata Chrissy chiede a Tony perché non mi hai parlato prima perché non mi hai chiesto aiuto e Tony le risponde perché non ero autorizzato a farlo nel senso che Meghan non glielo permetteva Tony sta lentamente gettando la colpa di quello che lui aveva fatto addosso a sua moglie che non poteva difendersi perché era morta a causa sua Tony racconta anche che nell'ultimo periodo appunto aveva preso molto peso diceva di non sentirsi bene di avere la pressione alta di avere il diabete e racconta che più volte aveva detto a Meghan di voler andare dal dottore ma a quanto pare Meghan non gli permetteva neanche di andare dal dottore la descrive come una moglie possessiva controllante e racconta addirittura che un giorno Tony era svenuto davanti a lei a causa di questi problemi di salute che aveva e al suo risveglio aveva implorato Meghan di portarlo dal dottore le aveva detto per favore posso andare dal dottore e lei lo aveva guardato e gli aveva risposto no non puoi il che a mio avviso non ha nessun senso considerando che Tony per la maggior parte della sua settimana viveva dall'altra parte della nazione quindi se avesse voluto andare dal dottore ci sarebbe potuto andare in che modo Meghan avrebbe potuto impedirgli di andare a farsi vedere dal dottore se stavano insieme sì e no due giorni a settimana ma questo è quello che dice Tony quindi questa è la versione di Tony ma una cosa davvero scioccante che viene fuori dalle indagini è che quando Tony era solo un bambino aveva assistito ad una tragedia una tragedia molto simile a quella che era capitata alla sua famiglia perché a quanto pare quando Tony aveva solo quattro anni suo padre aveva tentato di far uccidere sua madre e quando tutto ciò era accaduto a quanto pare Tony era in casa e aveva visto tutto il 19 marzo del 1980 la madre di Tony Loretta era a casa da sola con i suoi due figli Tony e Chrissy mentre il loro padre Robert Todd stava facendo dei corsi serali per un master che voleva prendere Robert faceva l'insegnante di sostegno e il coach di wrestling a scuola in un liceo Loretta quella sera non si sentiva molto bene quindi sapendo che suo marito Robert sarebbe tornato a casa molto tardi decide di mettere a letto i suoi figli Tony e Chrissy e decide di mettersi anche lei a letto quella notte però Loretta viene svegliata da due uomini vestiti di nero che si erano introdotti in casa sua uno di questi era sul letto con lei che la teneva ferma e la prendeva a pugni in faccia dopodiché perde i sensi e ricorda solo di essersi svegliata con un fortissimo mal di testa disorientata e confusa e quando era andata in bagno e si era guardata allo specchio aveva visto che la sua faccia era completamente piena di sangue Loretta però non sapeva ancora non si era accorta anche per via dello shock che in realtà le avevano sparato in un occhio Loretta era corsa fuori era corsa dalla sua vicina di casa che appena l'aveva vista aveva chiamato un'ambulanza e incredibilmente Loretta era sopravvissuta a quell'attacco perdendo solamente la vista nell'occhio in cui era stata colpita e il che è impressionante contando che le avevano sparato e il proiettile si era conficcato nel cervello quindi è stata estremamente fortunata a cavarsela con un danno così minimo quando avevano interrogato i figli di Loretta che erano in casa quella notte Tony che aveva appunto 4 anni ai tempi racconta di essere stato svegliato dalle urla di sua madre e quando era andato a vedere che cosa stesse succedendo aveva visto un uomo completamente vestito di nero che picchiava sua madre sul letto sul suo letto subito dopo un altro uomo vestito di nero l'aveva preso in braccio e lo aveva rimesso nel suo lettino inizialmente nessuno aveva sospettato del padre di Tony Robert e neanche Loretta aveva mai sospettato di lui ma poi gli investigatori scoprono che Robert aveva una doppia vita era sposato con Loretta e aveva due figli con lei ma allo stesso tempo era anche fidanzato ufficialmente che significa che stava per sposarsi con un'altra ragazza in un'altra città che era anche una delle sue studentesse da lì gli investigatori ci avevano messo poco a capire che Robert aveva pagato uno dei suoi studenti di nome John Cermonte un ragazzo tra l'altro con delle disabilità cognitive di cui Robert aveva approfittato aveva manipolato per convincerlo a uccidere sua moglie così che lui si sarebbe potuto sposare senza nessun problema con la sua nuova fidanzata Robert Todd era stato condannato a dieci anni di prigione anche se mi pare che alla fine ne avesse fatti solo cinque e la cosa assurda è che sua moglie Loretta la mamma di Tony ci ha messo molti anni a convincersi che effettivamente era stato lui a tentare di ucciderla ma dopo appunto diversi anni alla fine finalmente lo aveva capito aveva chiesto il divorzio anche se nel frattempo Robert aveva continuato a stare con la sua altra fidanzata comunque la mamma di Tony aveva chiesto il divorzio e si era poi risposata con un altro uomo che è stata poi la figura paterna che Tony ha avuto per il resto della sua vita si erano anche trasferiti e da quel momento in poi dopo una lunga terapia Tony era diventato la persona che vi ho descritto all'inizio del video spensierato carismatico eccetera eccetera né Chrissy né Tony avevano più rivolto la parola al loro padre per ovvie ragioni ma nel 2010 Tony aveva voluto contattarlo per riallacciare i rapporti lo aveva contattato via facebook all'inizio all'insaputa di sua sorella e da lì avevano iniziato a comunicare avevano iniziato anche a sentirsi al telefono e dopo un po' di tempo si erano anche incontrati Tony aveva portato tutta la sua famiglia a casa di suo padre Robert e a quei tempi erano solo lui Meghan Alexander e Tyler Zoe ancora non era nata ma dopo quell'episodio dopo quell'incontro scatta qualcosa nella testa di Tony per cui dice a suo padre Robert di non farsi più sentire racconta a sua sorella di aver riniziato a odiare suo padre era come se tutta quella rabbia per quello che suo padre aveva fatto a sua madre per il fatto che suo padre lo avesse abbandonato per un'altra donna fosse venuta fuori all'improvviso era come se il trauma di quello che gli era successo quando aveva quattro anni e che aveva con tanta fatica in qualche modo superato fosse riaffiorato tutto in una volta nel momento in cui aveva permesso suo padre di rientrare nella sua vita mentre Tony era in carcere scrive una lettera a Robert lunga 27 pagine tutte scritte a mano e in questa lettera amici Tony è la persona più fastidiosa del mondo fa tutto quello che i narcisisti fanno parla solo di sé di quanto è bravo quanto è bello quanto è perfetto anche quando prova a parlare della sua famiglia di quello che è successo comunque non ce la fa trattenere questi piccoli appunti su quanto lui sia bravo su quanto dice una cosa positiva sui suoi figli e poi deve aggiungere beh perché li ho cresciuti bene vi riassumerò questa lettera proprio all'osso perché è veramente lunga e il 90% appunto è lui che si idolatra da solo quindi ve lo risparmio inizia con lo scrivere di essere innocente sia delle accuse di frode sia di quelle di un video e scrive proprio sottolineandolo due volte che lui è innocente al 10.000% e poi dice una cosa davvero disturbante se nelle telefonate con sua sorella Chris si era stato vago e si capiva che prima o poi avrebbe dato la colpa a sua moglie no? stava un po' secondo me mettendo le mani avanti per poi fare questa cosa beh nella lettera a suo padre non si trattiene più scrive chiaramente che Megan ha ucciso i loro figli mentre lui non era neanche a casa e quando era tornato si era tolta la vita di fronte a lui scrive anche che nonostante tutto la perdona perché sa quanto stesse soffrendo a causa dei suoi problemi di salute vi ricordate soffriva della malattia di Lyme e Tony in questa lettera parla di molti altri problemi di salute ma nessuno ne era conoscenza e per adesso non ci sono prove che Megan soffrisse effettivamente di tutti questi altri disturbi Tony scrive che a causa di questi gravi disturbi di cui Megan soffriva Megan aveva anche perso un bambino e tutto ciò l'aveva resa molto depressa tra le righe appunto c'è lui che aggiunge sempre di quanto nonostante tutto lui si prendesse cura di lei di quanto nonostante lei fosse sempre stanca lui l'aiutava nonostante lui lavorasse tantissime ore fosse sempre esausto comunque lui l'aiutava a vestirsi quando lei non aveva le forze l'aiutava a mangiare quando lei non riusciva scrive nel dettaglio di quante ore lavorasse a settimana di quanto si sbattesse per fare avanti indietro dal Connecticut di come portasse i figli a scuola di come facesse la spesa insomma ci tiene che tutti sappiano i sacrifici che quest'uomo faceva per la sua famiglia che poi non è che stia dicendo cose allucinanti no? faceva la spesa portava i suoi figli a scuola cose normali no? ma lui ci tiene a mettere questa enfasi su queste cose poi finalmente dopo aver scritto 8 miliardi di frasi su se stesso inizia a scrivere del giorno del delitto anche lì appunto prima aveva perso la memoria non si ricordava nulla invece adesso nel frattempo a quanto pare l'ha recuperata scrive che quel giorno Megan si era svegliata e si sentiva particolarmente bene come non si sentiva da tempo avevano passato la giornata tutti insieme anche con i bambini aveva giocato a basket con loro e specifica sempre nonostante io fossi molto stanco ho giocato a basket con loro poi la figlia piccola aveva iniziato a piangere perché voleva questa collanina di cui abbiamo parlato all'inizio del video Zoe non trovava questa collanina da nessuna parte quindi Tony da bravo padre qual era si era offerto di andare a vedere nella loro seconda casa se per caso non fosse lì quindi Tony decide di salire sul suo minivan ma prima di andare nella seconda casa cercare sta collanina decide di schiacciare un pisolino nel minivan e a questo punto erano circa le sette di sera quindi questa versione era ancora diversa da tutte quelle che aveva già dato in precedenza perché in questa versione a quanto pare lui non è mai arrivato nella seconda casa perché si è addormentato prima quindi si addormenta in macchina e quando si sveglia si rende conto che si era fatto giorno quindi entra nel panico convinto che quella cattivona controllante della moglie sia su tutte le furie non avendolo visto tornare a casa quindi entra in casa ma non trova nessuno sale le scale e trova sua moglie che piangeva ma che appena lo vede cambia espressione inizia a sorridere e inizia a dirgli sei vivo allora non ti hanno preso Tony le chiede dove sono i bambini e se andava tutto bene al che lei risponde sì va tutto bene adesso che sei qui e poi Tony scrive che a quel punto Meghan aveva iniziato a raccontargli di una visione che aveva avuto quella notte in questa visione Meghan aveva visto che la fine del mondo sarebbe iniziata con l'arrivo di un virus parentesi quando Tony scrive questa lettera la pandemia era già in corso ma quando i delitti sono stati compiuti il covid ancora non solo non era arrivato in America ma non esisteva non esisteva ancora non c'era neanche stato il primo caso qui in Cina quindi o Meghan era davvero una visionaria o Tony si sta inventando tutto secondo me la seconda però io che ne so comunque ok lui scrive che appunto Meghan gli aveva detto che aveva visto che la fine del mondo sarebbe iniziata con l'arrivo di un virus e che Tony sarebbe stato catturato e ucciso da qualcuno che però non è pervenuto ma questi qualcuno avrebbero risparmiato Meghan e i bambini se lei fosse riuscita a liberare le loro anime Tony fa un altro appunto in questa lettera dicendo che negli ultimi anni Meghan era diventata sempre più spirituale e che lui nonostante non credesse a tutte quelle cose la supportava lo stesso sempre perché era questo marito amorevole che la supportava in tutto comunque per farla breve scrive Tony Meghan aveva dato ai bambini un dolce ripieno di Benadry e quando si erano addormentati li aveva messi tutti nella stessa stanza li aveva pugnati e uccisi e no non avete capito male Tony scrive subito prima di scrivere come sono morti i suoi bambini scrive per farla breve per farla breve i miei figli sono morti in questo modo Tony continua scrivendo che a quel punto si era sentito male ma Meghan stava continuando a raccontargli che cosa aveva fatto ai loro figli Tony era quindi corso a vedere con i suoi occhi e aveva iniziato a piangere nel vedere i corpi senza vita dei suoi figli aveva iniziato a piangere a chiudergli gli occhi e a lavargli la faccia nel frattempo Meghan in tutto ciò era molto calma e continuava a sorseggiare una bevanda in seguito Tony specifica che fosse Benadryl mentre beveva questa bevanda chiedeva a Tony se stesse bene al che Tony gli aveva risposto no non sto bene hai ucciso i nostri figli e lei gli aveva risposto rilassati credi in me e nella mia visione ho liberato le loro anime e Tony continua scrivendo che a quel punto all'improvviso Meghan aveva preso un coltello e si era pugnata nell'addome Tony quindi inizia a cercare un telefono per chiamare aiuto ma Meghan li aveva nascosti tutti compreso il suo e dopo essersi pugnata Meghan a quanto pare non si sa come riesce ad alzarsi riesce a continuare a bere il Benadryl va anche a farsi una doccia e ricordate Tony raccontava di quanto sua moglie stesse così male da non avere neanche le forze per mangiare vestirsi o cucinare per via delle sue condizioni di salute ma invece adesso scrive che dopo essersi pugnata riesce a trottare in giro per la casa ok e poi prosegue scrivendo che dopo un po' di tempo Meghan aveva preso di nuovo il coltello e si era pugnata una seconda volta dopodiché si era sdraiata sul letto aveva preso un cuscino e se lo era messo sulla faccia e aveva chiesto a Tony di aiutarla ad andarsene lui le aveva risposto di non riuscirci di non volerlo fare al che lei gli aveva risposto ah finalmente ho trovato qualcosa in cui fai schifo riesco ancora a respirare quindi primo in questa frase traspare sempre quanto Tony sia bravo in tutto no ho finalmente trovato qualcosa in cui fai schifo perché in tutto il resto sei perfetto c'è sempre questo tra le righe fastidioso e seconda cosa questa descrizione di una moglie tiranna di una moglie che lo bullizza persino quando è sul punto di morire mi ricorda un po' Chris Watts ma di questo magari parliamo alla fine del video comunque poco dopo Meghan muore e a quel punto Tony prova a rianimarla ma senza successo nella lettera aggiunge che si sentiva un fallito perché non solo non era in casa nel momento in cui i suoi figli avevano bisogno di lui e quindi non aveva potuto salvarli cosa che aveva già detto suo padre nel 1980 quando ancora negava di essere stato lui ad aver tentato di uccidere la madre di Tony aveva proprio detto questa frase quindi Tony prosegue dicendo non solo mi sento un fallito per questa cosa ma anche perché non sono riuscito a rianimare mia moglie e a salvarle la vita e aggiunge nonostante io abbia già salvato la vita ad altre tre persone ad altri tre pazienti mi è capitato di doverli rianimare e ce l'ho fatta ho salvato la vita tre persone tre pazienti ma non a mia moglie primo cosa c'entrano i tuoi pazienti e secondo questa persona fa il fisioterapista in che modo ha rianimato tre persone ma vabbè quindi a questo punto la moglie e i figli e il cane di Tony sono morti dopodiché Tony scrive di aver tentato il suicidio ma senza successo e dopo scrive di non ricordarsi più niente la prima cosa che si ricorda è la polizia che entra in casa sua per arrestarlo scrive che la polizia era entrata in casa e lo aveva ammanettato e poi lo aveva gettato giù dalle scale così con le mani ammanettate dietro la schiena e mentre Tony era sdraiato a terra dolorante dopo essere stato lanciato giù dalle scale dalla polizia dice di aver sentito le voci degli agenti dell'fbi che dicevano oh no noi eravamo venuti qua solo per dirgli che avevamo ritirato tutte le accuse di frode contro di lui certo Tony conclude la lettera chiedendo a suo padre di non condividere queste informazioni con nessuno perché a lui non importava il farsi pubblicità l'ottenere l'approvazione del pubblico lui era un uomo umile di cuore a lui interessava solo che venisse fuori la verità e che sua moglie e i suoi figli avessero giustizia scrive anche in questa lettera di avere intenzione di creare un'associazione di beneficenza in onore di Meghan i bambini e il suo cane e voleva chiamare questa organizzazione con tutte le iniziali dei nomi e poi aggiungere le parole vivi e in pace un'altra cosa da aggiungere è che i ragazzi che hanno fatto questo podcast da dove ho preso le informazioni hanno anche intervistato il papà di Tony Robert che ha detto una cosa che secondo me è molto interessante e fa riflettere il padre di Tony sostiene che se Tony non avesse assistito all'aggressione di sua madre quando aveva quattro anni a quest'ora Meghan e i bambini sarebbero ancora vivi lo ha detto lui stesso ha detto se Tony non avesse visto quello che ha visto non avrebbe fatto quello che ha fatto il processo come già detto dovrebbe iniziare a breve sicuramente lo seguirò magari vi darò dei piccoli aggiornamenti su Instagram se mi seguite e se dovessero uscire davvero tante notizie tante novità insomma farò un video aggiornamento ora vorrei solo aggiungere qualche riflessione perché poi come al solito vorrei sapere le vostre di riflessioni perché penso che questo caso abbia davvero tanti spunti di conversazione dunque vi ricordate il caso di Chris Watts no? è stato il mio primissimo video su questo canale quindi vi prego non giudicatemi perché era la prima volta praticamente che mi mettevo davanti a una telecamera che a quei tempi era il mio cellulare comunque se avete visto l'interrogatorio a Chris Watts e se non sbaglio l'ho inserito nel video e se conoscete la storia sapete che per far confessare Chris la detective lo aveva portato a dire gli aveva suggerito che magari non era stato lui ad uccidere le sue figlie magari era stata sua moglie che era anche lei morta questa è una famosa quasi banale tecnica che la polizia usa negli interrogatori non è che la detective pensasse davvero che Shanann la moglie di Chris Watts fosse colpevole di un gesto così orribile ma si usa questa tecnica con quegli individui che sono lì per confessare ma magari gli serve quella spintarella in più e distribuendo la colpa su altre persone il sospettato solitamente cede e dice ah sì ecco sì brava non sono stato io è stata lei e questo è quello che è successo appunto con Chris Watts lui aveva cavalcato l'onda alla grande aveva dato la colpa a sua moglie aveva iniziato a dire che sua moglie in realtà era una stronda praticamente era controllante era possessiva che l'aveva portato all'esasperazione ma è tutto da copione non è la prima volta che succede la cosa triste è che c'è stata un sacco di gente che ha creduto a questa cosa e se provaste a guardare su internet vi mettereste le mani nei capelli nel vedere quanta gente c'è che crede a questa cosa che insulta Shannon su internet dicendo che è colpa sua quello che è successo è colpa sua perché lei era una stronda con lui era troppo possessiva questo è davvero triste lasciando perdere questo per farvi capire quanto sia da copione vedete come anche Tony ha fatto quasi la stessa cosa ci è arrivato piano piano e no piano piano ha iniziato a dire eh ma Megan era controllante Megan mi impediva di risolvere i miei problemi Megan mi impediva addirittura di andarmi a far curare addirittura ad un certo punto nella lettera ha dato la colpa a Megan persino delle frodi ha insinuato che non fosse lui a gestire quelle frodi ma lei scrive che è stata lei ad uccidere i bambini lui non ha fatto altro che amarla e sostenerla e obbedirle lo dice più volte in questa lettera e la cosa curiosa diciamo è che il caso Chris Watts è successo proprio in quel periodo quindi chissà che Tony non abbia proprio preso spunto da quella storia concludo dicendo che ovviamente fino alla fine del processo non possiamo essere certi al 100% che effettivamente Tony abbia tolto la vita alla sua famiglia perché sono tutti innocenti fino a prova contraria ma qua sul mio canale youtube in cui vi racconto queste storie dal mio punto di vista posso darvi la mia opinione e voi potete darmi la vostra la mia opinione è che sia stato lui e che abbia fatto tutto lui e che gli sia scattato qualcosa in testa quando appunto ha rivisto suo padre e che unito magari questa cosa che gli è scattata in testa unita ai gravissimi problemi finanziari che stava avendo magari ha fatto scoppiare questa bomba insomma è come se fosse stata una mina vagante pronta ad esplodere fatemi sapere che cosa pensate di questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già se siete arrivati fino alla fine di questo video che sono sicura sarà chilometrico battete un colpo nei commenti e io vi ringrazio di essere stati con me anche oggi e come sempre ci rivediamo al prossimo video ciao ciao